E si torna virtualmente nell'isola dei famosi con Cristina Scuccia che se ne esce all'improvviso e fa io voglio spogliarmi all'isola ma sarò libera di farlo. Ma alla fine anche l'ex suora ha dovuto cedere per forza di cose e ha dovuto compiere un gesto definito da molti tra l'altro abbastanza hot, ma che per un'altra donna sarebbe semplice, magari una cosa più che normale. Ma cosa è successo di così rivoluzionario? Beh, vi basti pensare a una cosa, cioè che prima dell'inizio della sua avventura in Honduras, suor Cristina, beh suor Cristina chiamiamola come agli albori, aveva dichiarato e aveva detto eh ma io non indosserò i bichini. Eh no, sarà una versione del costume ma un attimino rivisitata. Il bichini non mi metteva per niente a mio agio, ma voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in maniera totalmente diversa. Non volevo urtare la sensibilità. Poi dice, ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io. Ed in effetti così aveva fatto, confermando quelle parole. Fino ora, esatto, perché Cristina Scuccia, per la prima volta dall'inizio del reality, ha indossato il bichini proprio come tutte le altre naufraghe. Chi segue il programma sa bene che la donna si è sempre fatta vedere con i pantaloncini rosa e due costumi interi sopra, che alternava chiaramente. Il primo tutto rosa e l'altro verde floreale. Piano piano però, l'ex suora ha deciso di sbottonarsi letteralmente e di scoprirsi un poco. Solo ieri infatti Cristina Scuccia si è finalmente fatta vedere come mamma l'ha fatto. Con un costume due pezzi, ma sempre con i pantaloncini sotto. Se ne era accorta anche Hilary Blasi nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì scorso, Cristina in questa settimana hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. E ancora, possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l'hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene. A riguardo la donna ha quindi detto, sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Conclude quindi, una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze. E se questo commento di Hillary facesse significare che sono stati eliminati anche i pantaloncini da Cristina Scuccia? Staremo a vedere. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.